Ciao amici di internet Virus Television appuntamento 19 Con la redazione della Virus Television pensavamo di celebrare la chiusura delle Olimpiadi Londra 2012 E vi mostreremmo i tre atleti più visti su YouTube questa settimana Più un video fuori concorso Lei è Marie Pie Bordeaux-Gagnon Nuoto sincronizzato Canadese Ribattezzata La Godzilla Olimpica Iniziamo dunque il viaggio di questa settimana con il primo video in concorso Lui è Stefan Fech, tuffatore tedesco Questa è l'apice della sua partecipazione a Londra 2012 Azz che male Beh com'era prevedibile i filmati più visti sono quelli dove gli atleti sbagliano Compiono dei piccoli errori Stefan ne colpi almeno due Manca la gamba Entra in acqua in maniera pessima Fa male tutte le volte che lo vedo Regia mandate Marie Pie Bordeaux che passiamo al secondo filmato Passiamo dunque ad Elisca Clucinova Atleta della Repubblica cieca Lei fa l'heptatlon Heptatlon L'apice della sua partecipazione a Londra 2012 è questo Si sta cambiando Deve vestirsi Eccola lì È come quando ci si mette il costume in spiaggia fregene Però è alle olimpiadi Sono quei filmati che rendono giustizia agli atleti Sono esseri umani anche loro La sua è una tecnica interessante Quella da seduta Perché io preferisco quella da in piedi Così E dopo gli slip della Clucinova Passiamo al terzo filmato in concorso Prego Godzilla Olimpico Lui è Henrik Rummel Bronzo nel canottaggio Statunitense Lo riconoscete perché è quello che Ecco alza le mani per primo E poi lo si nota perché Se notate bene Se fate un po' di attenzione Sembra essere particolarmente contento D'altra parte perché non esserlo Vinci una medaglia alle olimpiadi Vedete anche in questo filmato Scopriamo il Rummel uomo più che atleta Un uomo contento Vi ho mai detto quanto mi piace fare la virus television? Giungiamo dunque alla votazione E dei video in concorso questa settimana Commenta questo filmato con la lettera A Se il tuo preferito è il tuffatore tedesco Commenta con la lettera B Se il tuo filmato preferito è quello dell'atleta Della Repubblica Ceca che fa Eptathlon che si cambia di slip Oppure commenta con la lettera C Se il tuo filmato preferito è l'atleta Del canottaggio statunitense Barzotto Filmato vincitore della scorsa settimana La lettera B L'elefante in piscina Ciao schizzo Ti sei iscritto al canale della virus television? Ma dai basta cliccare Non ci vuole niente Sì se no facebook Arriva il frizzante Twitter Arriva il frizzante Ma ti chiamavo per un'altra roba Perché senti io ho una settimana Che mi sfondo di quella roba lì Ma a me non mi fa un cazzo Sì l'ho tenuta in frigo Sì Sì Ma che turchia Ma va l'ho presa in Italia Ma che ricetta Sì sì l'ho presa al supermercato Oh ma a me l'ha andata al supermercato senza ricetta A me fa un cazzo Una settimana che Ma Vabbè Ok Sì sì facciamo il solito Bella Ci vediamo al parchetto Ciao